Anita Blake, capitolo 27, noto di sangue. In corridoio, Maggi ci fermò poi lungo una mano per toccarmi il collo e quando la bloccai, afferrandola il polso, commentò «So scettibola, eh? Non ti è piaciuto? Non dirmi che stai con lui da un mese e che Filippo non ti aveva ancora assaggiata». Abbassò la decisione in seta per esporre il petto, rivelando una serie perfetta di morse sulla carne pallida. «Eh, marchio di Filippo, non lo sapevi? No». Passai oltre e feci per entrare in soggiorno. Un uomo che non conoscevo cadde improvvisamente ai miei piedi e Crystal gli fu subito addosso per schiacciarlo sul pavimento. Abbastanza giovane e piuttosto spaventato, alzò gli occhi a guardarmi come se fosse sul punto di chiedere aiuto, ma Crystal gli chiuse la bocca con un bacio bavoso e profondo, come se stesse bevendo. Lui lo sollevò le peghe di seta della camicia da notte, denudando le cosce incredibilmente bianche, simili a balline arenate sulla spiaggia. Mi girai di scatto, incamminandomi verso la sua porta, accompagnata dai colpi dei tacchi sul parquet. Se non avessi saputo che non era affatto così, avrei detto che sembrava una fuga. Alla porta Philip mi afferò con una mano e con l'altra si appoggia all'uscio per impedirmi di aprirlo. Inspirai profondamente per calmarmi, ero decisa a non perdere la pazienza. Non ancora. Mi spiace Anita, ma è meglio così. Adesso sei al sicuro, almeno dagli uomini. O dagli umani. Alzai lo sguardo e scorsi la testa. Mi hai fraintesa? Ho soltanto bisogno di aria, Philip. Non sto abbandonando il party, sai questo che temi. Ti accompagno? No, altrimenti uscire sarebbe inutile, visto che sei una delle persone da cui voglio allontanarmi. Senza replicare Philip in tutto già, lasciando cadere le braccia e chiuso gli occhi sulla difensiva. Non capivo perché la mia risposta avesse ferito i suoi sentimenti e non volevo saperlo. È già buio. Tra poco saranno qui e sarai sola. Non potrò aiutarti. Mi avvicinai a lui. Siamo sinceri, Philip, ripetai. Quasi in un sussurro. Sono molto più brava di te a difendere me stessa. E' il primo vampiro che fa un cenno può averli letti per colazione. Mi accorsi che il suo subito cominciava a sgritolarsi e rifiutai di assistere allo suo cielo. Dannazione, Philip, controllati. Uscì nel portico, resistendo alla tentazione di sbattermi la porta alle spalle perché sarebbe stato infantile. In effetto mi sentivo un po' infantile. In quel momento preferivo non sfogarmi. Le cicale e i grilli riempivano la notte. Il vento scuoteva il chiome degli alberi, ma non sembrava sfiorare il suolo, dove l'aria era ferma e stantia come plastica. Tuttavia, dopo l'aria condizionata della casa, il caldo era gradevole perché era reale e in qualche modo anche purificante. Di nuovo toccava il morso sul collo, sentendomi sporca, sfruttata, violentata, irosa, incazzata. Ero sicuro che non avrei scoperto nulla di quella casa. Anzi, in quel momento, l'idea di qualcuno o di qualcosa che eliminava i miei piedi non mi era del tutto sgradita. Naturalmente la mia simpatia per l'assassino non aveva la minima importanza, perché Nicolaus si aspettava che risolvessi il caso. E sarebbe stato meglio che ci riuscissi, per me stessa e per Catherine. Da respirare profondamente l'aria in mota, sentì la prima increspatura di potere. Filtrava tra gli alberi come il vento, ma il suo tocco non rinfrescava la pelle. Fui percorso da un brivido lungo e intenso. Vampiri, chiunque fossero, erano potenti e stavano cercando di risuscitare un morto. Nonostante il caldo, aveva piovuto da poco e i miei tacchi affondarono subito nel suolo morbido. Tra l'erba, costringendomi a camminare in punta dei piedi, inoltre, a causa delle ghiande sparse ovunque, mi sembrava di camminare sulle biglie. Caddi contro un albero, sbattendo dolorosamente la spalla, che obbligava tanto gentilmente il percorso. Da vicino giunse un suono acuto, vibrante di terrore. Era stata un'illusione prodotta da un'aria immota. Oppure si è trattato davvero di una capra? Il suono si spense in un gorgoglio umido e soffocato. Giunse al margine del bosco, sul prato dietro la casa, inergerato dalla luna. Sfilata una scarpa, provai ad appoggiare il piede al suolo umido, freddo ma sopportabile. Mi tolse anche l'altra scarpa, poi, tenendole entrambe con una mano, corsi attraverso il prato, vasto e deserto, nell'oscurità argentia, verso la siepe molto all'alto lungo al margine opposto. La tomba doveva essere là, perché sull'altro poteva nasconderla. Il rituale per esercitare i morti era relativamente breve. Mentre il potere si sprigionava nella notte e si accumulava lentamente e gratamente nella tomba, una magia calda la mia farò lo stomaco e mi atterò la siepe, che torreggiava nera nella luce lunare, tanto alta e fritta da attraversarla in maniera impossibile. Un grido maschile fosse chiuso dalla voce di una donna. Dov'è, dov'è lo zombie che hai promesso? Era troppo vecchia, rispose l'uomo, con voce esile di paure, ma anche ferma nella sua risolutezza. Hai detto che le galline non sarebbero bastate, così gli abbiamo portato una capra per il sacrificio, ma non c'è nessun zombie, credevo che fossi bravo nel tuo lavoro. Cosseggiando la siepe arriva in un cancelto metallico, argento e sbilenco, che sempre ricicolando e inducendo più di dodici paio di occhi a avvolgersi nella mia direzione. Vesi pallidi nell'assoluta immobilità della morte. Vampiri. Fra le antiche lapidi del piccolo cimitero di famiglia attendevano, nessuno attende più pazientemente dei morti. Uno dei vampiri più vicini a me era nero e aveva visto nervocio di Nicolaus. Con le pulsazioni accelerate, osservai il gruppo per fortuna. La master non c'era. Il vampirone era sorrisa. Sei venuta da sesso, era risvegliante? Mi smagliavo, oppure avevo pronunciato quell'ultima parola in modo un po' esitante. Era forse un segreto? Comunque ordinò con un gesto degli altri di lasciarmi avvicinare, affinché potessi vedere quello che stava accadendo. Al suolo giaceva Zachary, con la camicia impregnata di sangue. In piedi accanto a lui, con le mani sui pianghi, stava Teresa, vestita di un abito nero che lasciava scoperta soltanto una striscia di pelle sul petto, palida e quasi luminosa alla luce delle stelle. Dopo avermi lanciato un'occhiata rapidissima, la vampira si rivolse di nuovo all'esvegliante. Ebbene, Zachary, dov'è la nostra zombie? Lui decrutì. È troppo vecchia, non resta abbastanza energia. Ha soltanto cent'anni, risvegliante. Sei dunque tanto debole? Abbassando lo sguardo, Zachary affondò le dita nel suolo morbido, poi mi guardò fugacemente, senza che riuscissi a capire che cosa voleva comunicarmi. Paura? Un'esortazione a fuggire? Una richiesta d'aiuto? A che serve un risvegliante che non sa risuscitare i morti? L'improvviso, Teresa si incinocchiò accanto a Zachary, gli toccò le spalle, facendolo trasalire. Una tensione che era quasi un movimento percorse, come un'onda calda al cerchio di vampiri. Capì che intendevano il giro risvegliante e che la sua incapacità di risuscitare la zombie era soltanto un protesto. Faceva parte del gioco. Sulla schiena, Teresa strappò la camicia, che ricadde fluttuando intorno alle braccia di Zachary, ancora infilata nei pantaloni. Un sospiro collettivo si lepò dai vampiri. Intorno al bicipio destro di Zachary portava una fascia di corde e di perline intrecciate. Era un grigri, un ammoletto voodoo, che tuttavia non l'avrebbe veduto da ciò che stava per accadere. Quale che fosse la sua funzione non era abbastanza potente. Forse sei soltanto carne fresca? rispose Teresa in sussurro teatrale. I vampiri si avvicinarono, silenziosi, come il vento sull'erba. Non potevo starmi nellì a guardare Zachary. Certo, ero risvegliante, un colledra, colte, un collega, oltre che un essere umano. Non potevo lasciare che fosse ucciso in quel modo davanti ai miei occhi. Ah, aspettate. Nessuno parveu dirmi. I vampiri continuarono ad avvicinarsi a Zachary, fino a nascondere la mia vista. Se non soltanto il loro l'avesse morso, la frenesia si sarebbe scatenata. Ne ero già stata testimona una volta. Se mi fosse successo di nuovo, non avrei più cessato di essere perseguitato dagli incubi. Così alzai la voce, sperando di essere ascoltata. Aspettate. Non appartiene forse a Nicolaus? Non ha forse chiamato Master Nicolaus? I vampiri esitarono. Poi si scostarono per lasciar passare Teresa, che si veniva davanti a me e mi vissò. Non sono affari tuoi. Ho deciso di mischiarmi. Non evitare il suo sguardo, erano preoccupazioni in meno. Vuoi fare la sua stessa fine? I vampiri si allontanarono da Zachary in modo da circondare anche me. Ma io non me ne curai. Anche perché non avrei potuto fare granché per impedirlo. Se non fossi riuscito a salvare Zachary sarei morto anch'io, come era molto probabile. Voglio... No, tu non vuoi nulla. Io voglio parlare con Zachary da collega a collega. Perché? Chiese Teresa. Ne avvicinai a lei sin quesse toccarla. La sua collera era palpabile, perché la stavo sminuendo davanti agli altri vampiri. Lo sapevamo entrambe. Nicolaus ha ordinato che lui muoia. Teresa, però vuole che io viva. Sussurrai, benché sapessi che comunque gli altri avrebbero sentito. Che cosa ti farebbe se io restassi accidentemente uccisa qui, stanotte? In realtà mi faccio le ultime parole. Vuoi forse trascorrere l'eternità in una barra sigillata con una croce e catene d'argento? Con un ringhio, Teresa si scosta da me, come se l'avessi ustionata. Che tu sia dannata mortale! Che tu sia dannata all'inferno! Comico, detto da un vampiro. I capo di neri le creptavano intorno al viso. Le mani erano contratte come artigli. Parlagli, per quel che ti può servire. Devi risuscitare ciò che ci serve, altrimenti è nostro. Così è deciso Nicolaus. Se la risuscitasse alla zombie potremmo andarcene, liberi e liberi. E lesi, giusto? Sì, ma non puoi riuscirci, perché non è abbastanza forte. Ed era proprio questo che contava Nicolaus. Con un feroce contrazione delle labbra si rivelò la zanne. Teresa sorrise. Sì. Mi girò le spalle. E si inchiaminò risolutamente verso gli altri vampiri, i quali, come piccioni spaventati, si scostarono al suo passaggio. Mi hai cucciato vicino a Zachary. Sei ferito? Il risvediente scosse la testa e alzò gli occhi smorti per scudarmi. Apprezzo il tuo gesto. Ma stanotte cercheranno di uccidermi e non c'è niente che tu possa fare per impedirlo. Abbalzò un sorriso. Anche tu hai i tuoi limiti. Insieme possiamo risultare questo zombie. Sarà te e fredda di me. Accigliato lui continuò a fissarmi con un'espressione indecifrabile, in cui la perplessità si inscrivava d'altro. Perché? Zachary aveva assistito alla tortura di un uomo senza alzare una mano per fermarla. Poteva rispondere di che semplicemente non avrei sopportato di assistire la sua morte? Preferire la spiegazione più semplice. Perché non posso permettere che ti uccidano, se posso impedirlo? Non ti capisco Anita. Non ti capisco proprio. Allora siamo in due. Riesci ad alzarti? Il risvediente è lui. Che cosa hai in mente? Quando eviteremo il nostro potere? Zachary sgrinò gli occhi. Sai focalizzare? L'ha già fatto due volte. Non precisai di aver compiuto un'impresa sempre con la medesima persona, la stessa che mi aveva addestrata. In altre parole era un'operazione che non avevo mai compiuto con un austraneo. Sei sicura di volerlo fare? Chiese Zachary. Che cosa? Salvarti? Condividere il tuo potere. Con un offruscente andeggiare della veste, Teresa si è avvicinato a noi. Basta così, risvegliante. Lui non può farlo, perciò pagherai il prezzo. Vattene subito. Oppure non escire a noi per il banchetto. Siete veramente disgustosi, ma tu la sei per di tutte. Vuoi forse morire? Mi alzai molto lentamente, avvertendo per la prima volta la certezza assoluta che quella vampira non costituiva un pericolo per me. Forse non era una sensazione stupida, eppure mi pareva solida, reale. Forse qualcuno mi accederà prima che tutta questa faccenda sia finita, Teresa. Ma non sarai tu. Avanzai di un passo, obbligandovi a indireggiare. In quel momento potei quasi assoprare la pulsazione del suo sangue. Aveva paura di me? Stava forse impazzendo? Aveva appena sfidato una vampira centenaria, e lei era appena apetiteggiata. Mi sentivo smarrita, quasi in preda alle vertigini, come se la realtà si fosse trasferita altrove e nessuno mi avesse avvertito. Come veni i contratti, Teresa mi girò la momento alle spalle. Resuscitate il cadavere risveglianti, oppure vi ammazziamo entrambi? Gli giuro su tutto il sangue che mai è stato sparso. La minaccia credo non fu vana. Mi schiullai come un cane che uscisse dalle acque profonde. Avevo una dozzina di vampiri da placare e un cadavere centenario da risuscitare. In piedi, Zachary, è tempo di mettersi all'opera. Lui si alzò. Non ho mai lavorato con una focalizzatrice. Prima d'ora, devi spiegarmi quello che devo fare. Non c'è problema. Fine del capito, certo è che Anita Blake ha capito di mettersi nei guai veramente allucinante. Mamma mia. Vabbè. Ok, quindi stanno per provare a risvegliare uno zombie centenario. Cosa, ma mi può andare storto.